È stato un momento di grande solidarietà. Io sono il portavoce di un gruppo di cittadini, promotore di un'iniziativa di raccolta fondi per la lapide alla tomba di un concittadino, Stefano Bernacchia. In pochi giorni si sono raccolti i soldi necessari per la fornitura di questa lapide. I prossimi giorni verrà effettuato il lavoro. Una nota di solidarietà assoluta che a un certo momento ci preme ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito, ma soprattutto coloro che si sono adoperati a questo. Come sempre accade, si vede che i fanesi sono sempre molto solidali e attenti al decoro prima e post morte.